E buongiorno a tutti da Trani, sono nei pressi del molo Sant'Antuono, a Sant'Antonio dice la Trani, bellissima panoramica con il faro rosso che segna la parte finale del molo di Sant'Antuono e il faro verde che segna l'inizio del braccio, il molo San Nicola, insieme e poi con lo sfondo della cattedrale, sul tetto notate che ci sono operai a lavoro, Salto Rossella, Roberto, Carolina, nel frattempo il passaggio dell'imbarcazione della Guardia di Finanza, eccola, quella nautica ovviamente, in più vi faccio vedere una bellissima panoramica del porto di Trani e del molo Sant'Antuono, mentre si allontana l'imbarcazione, credo che non sia in emergenza perché stanno uscendo giusto per una perlustrazione, se no li vedevamo sfrecciare sul mare e qui siamo alla lanterna, lanterna di Trani, eccola qua, questo è il faro, il faro, faro di Trani, ovviamente il porto come sfondo, molo Santa Lucia, quella torretta, quella torretta che vedete lì nei pressi del porto e la parte del molo Santa Lucia, poi il porto turistico di Trani, guardate che mare c'è oggi e che giornata c'è, che bellissima giornata, e poi allo sfondo del Fortino, qui ovviamente tutto il lato della Vittoria Grande, il Fortino, il Fortino è lì, tutto il lato della Villa Comunale, il mare oggi è fantastico, splendida giornata, da apprezzare anche un bel bagno, guardate che bella, anzi fate uno screenshot, vi faccio, ecco, questo è uno screenshot che dovete fare con il mare, la cattedrale, il faro, sullo sfondo del braccio si intravede, dove c'è quella imbarcazione in fondo in fondo, il Gargano, non so se l'avete notato, benissimo, benissimo, salutiamo Barbara, il principe Rando, che altro si è collegato, vediamo un po', Alessandro, Piccappa, Antonio Cassano, Agnezza, Santos, Fausto, auguri per ieri, Fausto, ieri è San Faustino, Isabel, Emilio, Salvatore, Luciano, e Lucia, partecipa pure tu, dai, Milano, Roberto, De Fleur, Roberto Lori, Pizzeria Andosbar, Vladi, che altro c'è, Pasqua, Carolina, Roberto, Rossella, oggi ci dedichiamo alla passeggiata, e anche ad Andrea, Maria Grazia, Carlo, Rando, beh, vi faccio vedere un po' di mare, un po' di porto, dai, che cavolo, per quelle persone che oggi non sono al mare, ecco, vi faccio vedere questa bellissima panoramica del porto di Trani, sullo sfondo del porto turistico di Trani, le imbarcazioni sono andate a pesca, alcune sono ferme lì, per il messaggio sicuramente, e poi, ciao Carolina, vediamo se riusciamo a condividere questa